Buonasera, ti ringrazio di questo regalo, noi ci siamo permessi come Positano News e come abitanti dall'altro lato della costina di prendere due o tre copie per mettere nelle biblioteche nostre sorrentine e di piano di sorrento e te lo preannunciamo perché ci teniamo a questo momento di riflessione culturale. Hai fatto molto bene, guarda l'iniziativa di stasera come ho avuto modo di ribadire, di ricordare è un'iniziativa che serve fondamentalmente a conseguire tre risultati, serve innanzitutto a colmare un vuoto perché è una pubblicazione significativa nel quadro della bibliografia dedicata a San Pantaleone, serve a sottolineare, a rimarcare il valore della memoria che è un valore indispensabile per ricollegare il passato, consolidare il presente, far vivere degnamente il futuro, serve soprattutto ad onorare la dignità e la memoria di questi illustri sacerdoti, Don Ferdinando Manzi e stasera anche grazie alla felice coincidenza con l'anniversario della morte di Don Giuseppe Imperato Senior che sono stati due testimoni autorevoli del culto di San Pantaleone. Abbiamo fatto un'opera meritoria che si è presa possibile grazie al Comune di Ravello, grazie al contributo della parrocchia, di questo siamo assolutamente orgogliosi, proseguiamo in questo progetto di crescita culturale a beneficio della città di Ravello. Noi ve ne ringraziamo e vi seguiremo sempre, considerateci dei vostri fans e sempre più in alto, i nostri auguri.